Sotto le stelle del cinema questo appuntamento che è già partito con una proiezione che durerà fino al 9 di agosto è forse l'occasione migliore per poter fare attività di spettacoli quest'estate con tutte le problematiche del Covid-19? Sì, devo dire che nonostante l'anno difficile il teatro d'annunzio presenta una proposta che va al di là della tradizionale programmazione di spettacolo dal vivo, musica, teatro, circo e presenta questa idea nuova di questa arena cinematografica che arriverà in realtà fino al 6 settembre partita con un'anteprima il 14 luglio, andata molto bene con la proiezione del film Bohemian Rhapsody e continuerà il 20 con un'altra proiezione gratuita di Richard Jewel di Clint Eastwood il 26 avremo un'altra proiezione gratuita e poi ci sarà di fatto ogni giorno in tutte le giornate in cui il teatro non ha una manifestazione di teatro dal vivo, di spettacolo dal vivo continuerà fino al 6 settembre una programmazione con un'offerta molto alta dal punto di vista qualitativo sia per l'offerta cinematografica sia per il supporto tecnico cioè si tratta di una proiezione con uno schermo vero, con una macchina di proiezione vera con un impianto acustico di altissimo livello e quindi segnalo che si tratta di fatto della creazione di un vero e proprio polo culturale estivo di un'arena cinematografica che la città di Pescara sognava davvero da tanti anni Ci sarà anche un ricordo di Ennio Morricone? Sì, abbiamo voluto dare la nostra piccola testimonianza che si unisce al grande affetto con il quale tutta la nostra nazione ha vissuto il cordoglio per la scomparsa di questo grandissimo compositore per cui il 5 agosto proietteremo il film alla migliore offerta di Tornatore con le musiche di Ennio Morricone per ricordare questo grande artista Nonostante tutto si organizzano eventi a Pescara per questa estate e questo è un evento particolare perché tra l'altro si svolge all'aperto Sì, assolutamente sì, siamo riusciti a far ripartire la cultura nella nostra città con diversi eventi, diverse manifestazioni che si stanno svolgendo nella nostra bellissima città di Pescara soprattutto c'è questa iniziativa che è stata accolta favorevolmente dalla cittadinanza infatti la prima uscita con il film Bohemian Rhapsody ha accontentato 580 dei nostri cittadini sono potuti entrare nella bellissima cornice del teatro d'annunzio e hanno potuto godere della visione di questo splendido film